in quella parte di mondo dove viviamo vi sono montagne di morti un carnaio inestricabile tutto questo accade qui in europa è qui che si bruciano gli ebrei a milioni qui vengono pianti l'america sbigottita guarda fumare i crematori giganti d'europa noi noi apparteniamo all'europa tutto questo accade qui in europa siamo chiusi chiusi in questo recinto agli occhi del resto del mondo intorno a noi stesse guerre stesse invasioni stesse stesse terre siamo della razza dei nazisti della razza dei dei bruciati dei crematori della razza dei gasati anche funzione livellatrice dei forni crematori della fame delle fosse comuni una parte di noi sta in quelle fosse quei quegli scheletri straordinariamente uguali appartengono ad una sola famiglia europea questi questi avvenimenti non non in una in un'isola del pacifico non in una terra della della sonda hanno avuto luogo ma sulla nostra terra l'europa i 400 mila scheletri di comunisti tedeschi che sono morti dal 1933 al 1938 anch'essi sono nella grande fossa comune europea con milioni di ebrei morti nel pensiero di dio ogni ebreo morto nel pensiero di dio ogni ebreo tanti 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 morti sono veramente tanti sette milioni di ebrei sterminati trasportati in carrozze bestiame bruciati nei forni crematori costruiti a questo scopo costruiti a questo scopo questo appena nati i loro bambini venivano affidati al gruppo delle esperte nello strangolamento dei bambini ebrei esperte nell'arte di uccidere tremendo sulla carotide si muore si muore sorridendo nessun dolore dicono questo nuovo volto della morte organizzata razionalizzata che si scopre in germania sconcerta prima di indignare c'è c'è svalordimento ma come si potrà essere ancora tedeschi ci sono riferimenti ad altre epoche niente una delle più grandi nazioni civili del mondo capitale della musica di tutti i tempi ha assassinato 11 milioni di esseri umani in modo metodico perfetto un'industria di stato il mondo il mondo intero guarda questa montagna la massa di morte data dalla creatura di dio al suo simile se l'orrore nazista viene considerato un destino tedesco e non un destino collettivo l'uomo l'uomo sarà ridotto a vittima di un conflitto locale una sola risposta per un tale crimine trasformarlo nel crimine di tutti condividerlo come si condivide l'idea l'idea di eguaglianza di di fraternità per sopportare per tollerare l'idea condividere il crimine per sopportare